Il problema delle liste d'attesa accomuna tutti i malati agendo come una livella. La denuncia dello stato di salute precario della sanità sarda parte dai banchi dell'opposizione in consiglio regionale e si ferma davanti ai CUP, i centri di prenotazione delle asle dell'isola. Nonostante il finanziamento regionale da 8 milioni di euro per snellire le liste che procrastinano visite e interventi sine die, l'attesa non diminuisce e tra i pazienti in coda, afferma Desiree Manca, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ci sono anche i malati di tumore. Una promessa, l'ultima in termini di tempo proprio, l'ultima promessa da parte dell'assessore Doria, l'assessore della sanità risalente a circa un anno fa, ottobre del 2022, era l'istituzione del CUP oncologico. Io sfido tutti i sardi a chiamare il numero del CUP e a chiedere quello del CUP oncologico. Naturalmente questa è rimasta una promessa, come tante che non sono state realizzate, la realtà è che tutti i malati di tumore purtroppo fanno la fila come tutti gli altri malati pazienti sardi. Per l'esponente dei 5 Stelle, la volontà politica applicata negli anni tradisce le promesse elettorali che vorrebbero un miglioramento della sanità pubblica. I dati delle liste di attesa, che riguardano anche interventi urgenti, evidenziano invece, secondo la Desiree Manca, una spinta politica attesa di ruotare la sanità sul privato piuttosto che sul pubblico.